Voglio raccontarvi una storia molto veloce che finirà con una domanda per ognuno di voi che se volete poi potrà essere uno dei temi da affrontare nell'unconference del pomeriggio. Visto che di risposte io non ne ho molte ho pensato di girarla un po' così perché non faccio la community manager, faccio analisi dati e consulente business, non mi occupo assolutamente di questo se non nel tempo libero. La storia di Eretal Femminile parte con una ragazza, una ragazza sui 35 anni, torinese, che decide di mettersi in proprio. Nel fare questo si ritrova davanti tantissime difficoltà a cui non aveva pensato. Dalle piccole alle grandi, alcune legate al fatto che era una donna, alcune legate al fatto che lavorava in proprio, alcune legate al fatto che aveva appena iniziato. Fortunatamente questa ragazza aveva un'amica che anche lei lavorava in proprio. E quindi un giorno si sono incontrate al bar e hanno iniziato questo sfogatoio in cui dicevano tutti i loro problemi che incontravano. Ad esempio, non so, mando mille preventivi al giorno e nessuno mai che mi caga. E l'altra, sì, capita anche a me. Però ho notato che se invece che semplicemente una descrizione con un importo, se aggiungo qualche parola in più su quale sarà il mio lavoro, qualcuno in più mi risponde. Ah, ottimo consiglio, proverò anch'io nella disperazione. E questo ha fatto sì che si accorgesse di come avere qualcun altro con lo stesso tipo di problemi la facesse star meglio sotto tanti profili, perché poteva sfogarsi con qualcuno che l'ascoltasse. Magari il compagno ne aveva un po' le scatole piene. Il semplice fatto quindi di poterne parlare era già un sollievo. Il fatto di parlarne con qualcuno che ti capiva, perché si trovava nella stessa situazione anche, perché ti accorgi che non sei sola, che non sei tu l'unica stupida che non riesce a fare quella cosa. E quindi mal comune mezzo gaudio. E poi appunto ogni tanto da questi confronti venivano fuori anche indicazioni utili. proprio per riuscire a sfangarla con questa avventura lavorativa in cui si era buttata. Così facendo è successo che si sono trovate sempre più persone, sempre più donne, che avevano questo stesso tipo di problemi. Perché una chiamava l'altra, chiamava l'altra ancora. Non si sono più trovate in un bar, ma hanno trovato un co-working che gli prestava gratuitamente la saletta. E da lì anche altre ragazze fuori da Torino hanno saputo di questa cosa. E hanno detto anch'io, anch'io, anche da noi. E si sono messe a organizzarlo a casa loro. Insomma, nel giro di brevissimo tempo ci siamo ritrovati con una serie di gruppi, tutti informali, tutti con questo nome abbastanza generico, Rete al Femminile, di donne che lavoravano in proprio e che si trovavano per parlarne. Una volta al mese, in un posto gratuito, perché ovviamente era un'attività fatta nel tempo libero, nel tempo libero dal mancato lavoro che magari non avevano. E quindi completamente volontario e senza nessun tipo di budget. Però funzionava. Ha funzionato talmente tanto che ha iniziato una specie di moto convettivo, fisica di base. Queste particelle d'acqua, direi, di ragazze che si trovavano, si scaldavano a vicenda, si sostenevano a vicenda, si aiutavano a vicenda. Lo fanno tuttora, non so perché uso il passato, ma è così ancora oggi. E facendo così crescevano, nel crescere si diffondevano, si trasformavano in qualcosa di più grande e raccontavano di questa esperienza. E questo faceva sì che nel ritornare poi all'interno del gruppo portassero nuove persone. E quindi si è allargato nel tempo. Si sono trasformate da acqua in vapore acqua, in nuvole. Hanno iniziato a vagare per Italia e hanno diffuso questo verbo. Che è semplicemente appunto quello di incontrarsi e parlarne. C'è sicuramente qualcun altro che ha il tuo stesso problema. Abbiamo avuto una ragazza che organizzava gli incontri a Bologna, a Firenze, ha cambiato lavoro, si è trasferita a Bologna e ha aperto il gruppo lì. Quello di Firenze l'ha preso un'altra ragazza e lei si è spostata e ne ha aperto in una città dove ancora non c'era. Abbiamo avuto però anche questo tipo di trasformazione di movimenti anche a livello online. Perché l'organizzazione fondamentalmente si basa sul fatto che ci si incontra una volta al mese dal vivo e c'è un gruppo Facebook, quindi online, dove si scambia poi materiali, dove si continua quel confronto che è iniziato offline. e dove si ha anche un unico momento di autopromozione con un post fisso un giorno della settimana, il venerdì, che si chiama Pimp Yourself. Perché una delle regole di questo gruppo è che non usi questi incontri per vendere quello che tu fai, ma li usi per vendere attraverso le altre persone eventualmente, quindi facendoti conoscere. Insomma, si è creato un ciclo dell'acqua con tre valori fondanti che facevano da centratori e da diffusori e quindi dove le persone riuscivano a attrarre sempre nuove altre persone nel gruppo. Questo ha fatto sì che in poco tempo, da due persone, siamo passate a mille iscritte, ci siamo trasformati in associazione per poter gestire la diffusione geografica. sono iscritte paganti, quindi ci sono tutte persone che pagano per iscriversi all'associazione e per fondamentalmente incontrarsi offline nella loro città di origine o quelle in cui passano la maggior parte del tempo e online in un gruppo locale e da qualche tempo anche in un gruppo nazionale dove siamo tutti insieme. è stata una cosa particolare proprio perché non c'era nessun intento di creazione della community, è una cosa che ci siamo ritrovati a dover gestire, infatti non c'era nessun manager, le leader, quindi le ragazze che gestivano i vari gruppi locali erano del tutto inesperte e non coordinate tra loro, anzi in realtà spesso erano persone che veramente si erano messe in proprio, questa attività non funzionava, avevano pochi clienti, tanto tempo libero, che cosa faccio nel mio tempo libero? Provo ad aprire rete al femminile nella mia città, chissà che ne venga qualcosa di buono ed è successo sempre così. Il lato positivo di questo era un'autenticità a mille perché anche la leader di turno non era mai percepita come un manager o una persona esterna ma esattamente con una immersa nella stessa palta di tutti gli altri, quindi creava subito molto senso di appartenenza. Facebook è lo strumento che è stato utilizzato anche qui senza ragionare prima su quale poteva essere lo strumento migliore ma in modo del tutto spontaneo ed è stato in qualche modo vincente perché essendo intuitivo, diffuso e conosciuto da tutti ha permesso, ha fatto sì che non fosse mai una barriera all'ingresso, quindi non c'era alcun problema. Dall'altro lato ha creato una serie di problemi per il fatto che non è pensato come un unico strumento per gestire un gruppo così variegato e quindi adesso stiamo studiando come integrarlo con qualcos'altro perché stanno proliferando i gruppi Facebook. Nessun metodo proposto o imposto dall'alto o da un centro perché non c'era un centro e quindi ognuno faceva per sé in base al tipo di persone, di professionalità che arrivavano in base al territorio, alle sue caratteristiche e questo ha fatto sì che si generasse una diversità possibile molto molto elevata. Una serie di best practice che a volerle provare a tavolino tutte non si sarebbe mai riusciti. C'è chi si incontra la mattina dalle 10 all'una, fa tre ore di incontro e parlano di argomenti professionali, fanno momenti ludici, c'è chi va in gita, chi va a pranzo, chi va a fare un aperitivo, chi si incontra nei locali pubblici, c'è chi si incontra la sera, c'è chi appunto fa formazione, chi invece fa semplicemente tipo gruppo anonimo di autoaiuto, c'è un po' di tutto. Nel crescere e nel favorire lo scambio di opinioni, anche quello è stato molto spontaneo, le singole leader, quelle che si trovavano a gestire un piccolo gruppo locale, scrivevano a una delle altre che conoscevano, che avevano conosciuto dicendo io non so più che cosa fare qua, hanno tutto questo problema e così si condividevano le soluzioni, finché non è stato creato un gruppo Facebook dedicato alle leader e questo ha fatto sì che a quel punto quella diversità si espandesse dappertutto perché ognuno aveva la storia delle altre a cui attingere. E l'ultima caratteristica era appunto è questa, che c'è una commissione tra offline e online. Ho provato a differenziare le due cose, di fatto online è dove si parla, dove si sparano idee, dove si dice sarebbe bellissimo se, dove si condividono contenuti utili, dove si fanno, non so, delle richieste, io dovrei organizzare un corso di formazione nella mia città e chiedo nel gruppo Facebook quali posti le altre persone possono consigliarmi e arrivano sempre una spattafiata di commenti. Non esiste un post né sui gruppi locali né in quelli nazionali che resti senza nemmeno un commento, mai. E non per volontà di un manager che a un certo punto, un moderatore che interviene, ma semplicemente perché ognuna si immagina di essere lei quella povera sfigata che posta una domanda astrusa e nessuno le risponde e quindi si sforzano in qualche modo di rispondere anche veramente alle richieste più strane. Invece offline è dove si fa, addobbare una sala, fare un, organizzare un evento, una che parla e le altre che ascoltano, organizzare un laboratorio. Queste cose qua sono quelle che creano veramente le relazioni tra le persone, l'ha già detto anche qualcun altro, e quindi che definiscono poi i legami. È per questo motivo che da quest'anno abbiamo l'obiettivo di incontrarci offline, almeno una volta all'anno, anche a livello nazionale. E quindi organizzare un evento per mille persone, sempre tutto a titolo volontario e gratuito, e non so come faremo, ma ve lo farò sapere. Offline è dove abbiamo, dove appunto coltiviamo la parte di generosità, senza la quale non sarebbe possibile, e dove condividiamo le emozioni. Quindi dove creiamo i legami che poi riportiamo sull'online. Proprio perché è stato un processo molto inconsapevole, la lezione che abbiamo imparato è che tutte queste cose in realtà sono tecniche, strategie che uno può adottare o meno, ma la vera differenza è riuscire a capire qual è veramente il bisogno insoddisfatto delle persone che partecipano al vostro gruppo. Perché quello, in questo caso, cioè questo è un caso proprio, diciamo, da manuale, del fatto che è bastato quello e non c'era nient'altro per trovare il modo di. Quindi la domanda con cui vi lascio è proprio questa. Voi conoscete il bisogno delle persone con cui vi trovate o con cui vi raggruppate? Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti